Penso che sia importantissima perché venire in casa della terza squadra in classifica e riuscire ad avere subito un vantaggio, a guidare la partita per 34 minuti è una cosa da fare complimenti ai ragazzi e a tutta la squadra. Siamo stati bravi, non abbiamo molato il primo quarto dove loro hanno cercato di fare il break alzando un po' il ritmo. E poi sicuramente la nostra continuità di gioco, il ricercarsi, il passaggio in più e le stare uniti ci ha dato questo vantaggio che poi alla fine ha contato poco, però comunque si è portata una vittoria importantissima che ci permette di arrivare alla prossima partita molto più carica.